Nel 2015 non è più una novità che l'italiano è multicanale. Il 60% di noi, maggiore di 14 anni, ormai utilizziamo internet, il mobile, le app, i social network nei nostri processi decisionali, che sia l'acquisto, che sia anche le interazioni e le informazioni circa la nostra salute. Questo cosa significa? Che mettiamo in discussione anche i punti di contatto tradizionali in una volontà di ricostruirci i nostri percorsi di senso. Nel rapporto medico-paziente anche questo dato è molto rilevante, quindi tutto cambia a diverse patologie, ma vediamo che l'italiano tende a utilizzare il motore di ricerca come fonte sia per ricercare ulteriori informazioni, come second opinion, ma anche per mettere in discussione il rapporto con il medico. Ovviamente parliamo di numeri assolutamente non banali. 12,5 milioni di italiani hanno un profilo cosiddetto hyper reloaded, quindi per cui si muovono liberamente in questi punti di contatto, chiedono di più dai prodotti e dalle marche e anche nel rapporto con la salute si aspettano dal medico un rapporto paritario. Per cui un medico che diventa multicanale, che aiuta anche a identificare siti, app, social network, dove approfondire in un consesso scientifico ma al tempo stesso empatico. Vivere in un'interazione multicanale significa competere con le logiche del web, sviluppare portali, mobile app empatici che l'utente possa fruire con logiche di personalizzazione molto centrata sulla persona e non sul paziente.